La bellezza di questo convegno, sottrazione coatta dei minori alle famiglie, domani dalle 9 alle 18.30 a Palazzo Valentini, sala Monsignor Luigi Di Liegro, sede della provincia di Roma. Tali convegni rappresentano anche un'occasione di ascolto, progettazione di intervento su temi che coinvolgono non solo gli addetti ai lavori, ma anche direttamente ai bambini, ragazzi e famiglie. Poi si inizia alle 9 l'apertura dei lavori, uso un termine tecnico, introduzione e benvenuto da parte dell'onorevole Pierpaolo Zaccai, intervento moderatore di Fabiana Carucci, poi ci saranno descrizioni del caso di Elisa Magro per quello che riguarda il Veneto. Andiamo per ordine Pierpaolo, Elisa Magro stiamo parlando di cosa? Stiamo parlando di una mamma che ha conosciuto la sottrazione del primo figlio, attraverso poi un atteggiamento ostativo da parte del padre che non gli consente di rivederlo, lei si trova in una situazione di allontanamento dal figlio, perché anche in quel caso è stato stabilito un affido condiviso, lei può vederlo in alcuni orari, in alcuni periodi, il padre però utilizza questo atteggiamento ostativo di ostacolo e quindi non gli consente di poterlo rivedere. I servizi sociali non intervengono in modo adeguato e quindi non intervengono per sanare questo conflitto che si protrae nel tempo. Poi abbiamo Clara Lazzaro della Lombardia. Sì, Clara Lazzaro è un medico oculista della città di Milano, anche lei sta vivendo questo caso di sottrazione del minore, in seguito di un conflitto familiare, l'hanno danneggiata particolarmente perché hanno tentato di descriverla come persona delirante, inaffidabile. Clara Lazzaro è un'oculista, fa visite mediche tutti i giorni, interviene con chirurgia, i pazienti si rivolgono a lei e ottengono benefici. Ieri l'ho chiamata, gli ho telefonato, stava proprio visitando un paziente, è contenta di venire a Roma e di esporre il suo caso in un convegno nazionale. Poi ci sono tanti altri casi... Saverio Sarcina della Puglia è un caso eclatante, le due gemelline gli hanno sottratto, Aurora e Federica, in primissima età evolutiva. Le bambine stanno vivendo senza il papà. Saverio si è incatenato di fronte al tribunale per i minorenni di Bari per oltre due mesi. Due mesi incatenato di fronte a un tribunale, andai a Bari nel periodo in cui si era incatenato a portare in solidarietà. Abbiamo ottenuto successo sulla stampa pugliese, la Gazzetta del Mezzogiorno ha pubblicato il nostro intervento, l'intervento di Italia Garantista, ha pubblicato la storia di questo uomo che sta lottando per rivedere le gemelline in primissima età evolutiva, deprivate della figura paterna. Poi ci sono tutti gli altri casi, ricordo anche Sabrina Paoni che fu nostro ospite. Poi alle 10.20 presentazione dei libri sui minori, c'era Sella Cica e Andrea Valabro. Poi abbiamo l'intervento dell'onorevole Franco Laratta, deputato PD, l'intervento dell'onorevole Franco Cardiello, PDL, tra l'altro è il promotore, il presentatore della legge, giusto? Sì, il senatore Franco Cardiello del PDL ha presentato un disegno di legge in materia di abolizione, di soppressione del tribunale dei minori e di ridimensionamento dei poteri conferiti ai servizi sociali comunali e di istituzione del contraddittorio, perché per i casi di minori sottratti non esiste il contraddittorio, quindi non esistono le garanzie del diritto di difesa per quanto riguarda i familiari nel momento in cui si trovano di fronte all'allontanamento del proprio figlio. Michela, la volta scorsa ci parlasti della tua storia, correggimi se sbaglio, si diamo del tu, una storia personale alla quale hai posto anche una condizione reattiva che ti ha permesso di coinvolgerti e di dispensare attraverso la tua esperienza e il tuo dolore, dispensarti per gli altri, insomma cerchi anche di aiutare gli altri attraverso questa tua esperienza personale. Io velocissimamente ti lascio anche il tempo per ricordare di quale vicenda, Mara, sei protagonista. Ti è stata sottratta tua figlia, prego. Io mi avvicino molto al caso di Elissa Magro di Veneto come modalità, come dinamica. Certo, le dinamiche cambiano da caso al caso. Il mio è ancora più complesso in quanto prima ancora di aver sottratta mia figlia, certo con la partecipazione del padre che in questo caso da un anno e mezzo, quasi due, è diventato non il tutore perché io non ho perso la vaterprotestà, ma il collocatario di mia figlia in base a delle accuse assurde che mi sono state portate di puerili, no? Non si può accusare una madre di essere sporca, di mandare la figlia a scuola oppure di abbandono quando la manda a fare magari con un'altra mamma delle ore per approfondire la matematica o altre materie, essere accusata di abbandono. Perciò per poter approfondire ancora di più dovrei iniziare già dall'inizio del discorso. Io sono una cittadina rumena portata in Italia 15 anni fa da un imprenditore con la promessa di un lavoro, ma ancora più importante di quello che stavo già facendo nel mio paese. Dal momento in cui ho messo piede in questo paese praticamente la mia vita è diventata un incubo, giorno per giorno sempre di più. Ignara da qualsiasi tipo di disegno del destino che questa persona aveva già predestinato per me a tavolinetto, perché parliamoci chiaro, non si parlava né di sentimenti, non si parlava di nulla, da parte mia ancora ancora meno. La mia vicenda rientra tra maltrattamenti delle donne, tra la mancanza di una copertura giuridica, malgrado si parli tanto di denunce che le donne dovrebbero fare. Io dalla mia esperienza che ho avuto posso dire che spesso, quasi sempre, le donne dopo le denunce si trovano abbandonate a se stesse, lasciate da sole, perciò copertura legale quasi inesistente, anche perché oltre le denunce dovrebbe essere messo in atto un procedimento penale che garantiscano alle donne la possibilità di vita, di vita dopo determinate azioni e la garanzia di essere tutelate e difese. Questo fatto non avviene quasi mai. Noi stiamo facendo nome di cronaca, facciamo numeri sui giornali, facciamo programmi televisivi sulla nostra sofferenza e quella dei nostri figli, perché non dimentichiamo che la sofferenza, la violenza sulle donne si propaga poi sui figli. Quindi è inutile pensare che una persona che abusa di una donna può essere poi in seguito un padre modello, un padre che possa essere collaborativo nel caso in cui ci siano delle separazioni. Allora, io ti interrompo, perché molte persone la volta scorsa non avevano, non si erano sintonizzati per tempo, non riuscivano a capire la storia di Michela Popa. Michela Popa viene in Italia con la promessa di un lavoro, lei ha già una posizione consolidata in Romania, viene qui con la promessa di un lavoro importante, questo lavoro non verrà mai riconosciutogli, dice come fa però ad avere una figlia con questa persona? C'è tutta una faconda documentazione che dimostra come la Michela Popa sia stata vittima, sia stata circuita, raggirata e quindi anche abusata, passatemi il termine, se poi io narcotizzo una persona e ci faccio sesso ne abuso, non ci sono i segni di infrazione, non c'è l'abuso con la violenza. Ma c'è comunque impossibilità della vittima di difesa. Certo, no, no, ci manca no perché per abusi pensa sempre alla violenza, in realtà questo è successo. Da uno di questi rapporti è nato questo frutto che lei considera un dono di Dio e considera comunque a tutti gli effetti sua figlia ed è comunque un aspetto che coglie la mia e credo la solidarietà di molti di voi. Grazie. Prima di andare in pubblicità, voglio chiedere a Pierpaolo, un bambino che va a scuola sporco, cioè la famiglia può essere contestata, può essere richiamata? Se dovesse andare sporco. No, 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 perché io con uno, aspetta, guarda, se tu sei questa, tua figlia è pulita, cioè sei pulita, tua figlia è pulita, non è questo il problema. Può essere un motivo? Non entra nell'ambito della giurisprudenza di rito, diciamo la poca cura, la scarsa cura di un bambino, il fatto che non sia ben vestito, che sia un po' trascurato, non contempla la possibilità di sottrarlo alla famiglia. Ci sono centinaia di migliaia purtroppo di bambini trascurati nell'abbigliamento, nella cura di se stessi a causa di una povertà familiare, in altri casi a causa di trascuratezza, poca attenzione da parte dei genitori. Ma la povertà non è un elemento, una condizione, che giurisprudenzialmente consente la sottrazione di un bambino. Abbiamo un caso nelle Marche, mediante il quale, attraverso un decreto del sindaco su segnalazione dei servizi sociali, è stato sottratto un bambino, Thomas, alla mamma, perché dicevano che era trascurato nell'abbigliamento e che era poco ben vestito. Sono casi assurdi questi, quella è stata un'altra violenza. I servizi sociali dovrebbero intervenire consultando la madre e cercare di educare e di insegnare ad avere cura maggiore verso il figlio, capire che cosa c'è, che cosa è accaduto, perché il figlio è un po' trasandato nell'abbigliamento, se ci sono problemi economici, problemi di altro genere, o se la madre è disattenta. Ma bisogna intervenire all'interno del nucleo familiare per cercare di ricomporre un equilibrio familiare e consentire all'adolescente, al bambino, di stare con i suoi genitori, perché ha bisogno dei genitori, non ha bisogno di una casa famiglia, non ha bisogno di essere strappato via, allontanato e di vivere questi traumi indelebili che porterà nella sua personalità in futuro in età adulta. Impongono sempre un... Impongono, impongono. No, no, l'imposizione è anche nel richiamo di un codice rigido, no? Ci mancherebbe, il bambino deve essere accudito, seguito. Poi in questo paese permettiamo ad altri genitori di fare dei bambini degli espedienti criminali e tutti quei motivi che fanno saltare gli equilibri all'interno di un contesto sociale o che dovrebbero richiamare l'ordine di un contesto sociale, quando li fai saltare crei discriminazione e la discriminazione è razzismo. Togliete i figli a quei nomadi, a quei rom, a quegli zingari, a quelle persone che i figli li usano per espedienti criminali. li narcotizzano, li tengono ai semafori a 40 gradi all'ombra all'estate, al freddo... Poi gli dai... Io ricordo che la parisi gli portava le scarpine e questo ha detto, io non voglio le scarpine, voglio i soldi. Loro sono protetti. Sentenze del tribunale escludono la possibilità di sottrare i figli ai rom. Sentenze del tribunale. Ai nostri connazionali gliele sottraggono per molto poco. Nel caso dei rom non si dà corso a nessun tipo di sottrazione coatta.